La parata deve essere dura, quando lui tira, questo deve essere duro. No, e poi arriva, arriva qua, questo deve essere duro. Questo deve essere duro. Come bloca, bloca, pam, pam, pam. Ok, non? Ok, vai. Questo deve essere duro, se io sbaglio, prendo. Ma se blocco, se blocco, deve essere bloccato, non deve essere... Ok? Duro. Ora andiamo avanti. Ora andiamo avanti. Sempre corta distanza, dopo lavoriamo con lunga distanza. Ora lui non deve fare questo. Solo uno, pam, pam, pam. Uno. Ok? Pam, oh. Ok, corta distanza. Io sarò così, guardate. Io da qui, sempre questo. Io da qui, vai. No 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 no... Paro, paro. Ok, paro. Ok, paro. Ok, ok. One, no, no. Uno, uno. Uno, uno. Paro, rimas. E a zona ne se contratasse. No, 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 no. Il ne se Christie va. Il ne si sta in un'esplot? Ponte-a! Deuxi? Ponte-a! 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 Ok, paro. Si es baio! se sbaglio tu non mi interessa controattacco metti che sbaglio ok perché ormai c'è la video review quindi se l'abdomo dice lui tira ok Yugo video review Yugo meglio separiamo ok tutto corto a distanza quindi non dobbiamo essere contratti ricordate ieri non rilassati e poi veloci ok e poi rilassati e poi ora che l'importante è pata ok di nuovo veloce facciamo facciamo la mia adesso tutto stesso ma Ok, per Demetri. La'yate morta o morta? AĴÈ primeraiii! Machi andati! No, non dimenticare. Se io! Se io! Se io!